Io chiederei alla regia di condividere immediatamente l'immagine e la connessione con la Presidente Mangiacavalli che di nuovo salutiamo, grazie per questo tempo che la Presidente riesce a regalarci. Allora Presidente, è evidente, le chiediamo un commento e una reazione alle cose che sono state dette e per quello che lei è riuscita a seguire, però mi sembra evidente che noi le chiediamo anche un intervento su come il mondo delle professioni infermieristiche stanno osservando e si stanno coinvolgendo in quello che è stato definito da più di un relatore l'ecosistema digitale messo a servizio della sanità. italiana. Per cui Presidente, le diamo dieci minuti per il suo intervento. Grazie, intanto ringrazio e saluto tutti e soprattutto un saluto speciale al Direttore Donetti per questo invito. Avevo contatto fino all'ultimo di riuscire ad essere presente, ma come ho spiegato al Direttore a questi giorni sono un po' in overbooking per delle scadenze che tutti conosciamo e quindi stiamo facendo una serie di incontri. con le diverse forze in campo, però sono riuscito a seguire quasi tutta la mattina, devo fare i complimenti perché le sessioni che si sono susseguite sono state decisamente ricche di spunti e molto interessanti. Peraltro alcuni spunti li riprenderò anche in queste brevi considerazioni che voglio fare cercando di stare nei tempi. Intanto ringrazio i relatori di queste due sessioni perché hanno presentato, intanto per la capacità di sintesi e di andare al punto, quindi complimenti intanto per questo. Ma hanno presentato sicuramente due esperienze importanti che danno un po' come dire l'elemento concreto del tema di oggi. Tema di oggi che è venuto sicuramente alla ribalta in questi due anni di Covid, che ci ha trovato impreparati a questa pandemia, non solo dal punto di vista, come dire, clinico-scientifico, ma anche dal punto di vista della tenuta digitale del nostro sistema. Credo, insomma, sia superfluo ricordare come facciamo fatica, ad esempio, a fare molte attività in remoto, anche di tipo organizzativo e gestionale, e come sono diventate poi modalità consuetudinaria durante questi due anni. Ho in mente tutte le difficoltà per far partire i processi di televisite, di telemonitoraggio e di teleconsulto, perché c'era il tema della registrazione, dell'impegnativa, del riconoscimento dell'attività e dei sistemi che consentissero la tracciabilità e anche la tenuta delle informazioni, della riservatezza dei dati. Dopodiché, però, in pochissimo tempo, almeno sono partite alcune esperienze che ci hanno consentito in questi due anni, lo ricordo anche, di riattivare anche sui tavoli ministeriali documenti importanti, di arrivare anche a definire, in intesa Stato-Regione, documenti importanti, quali tutto il sistema di televisita, teleconsulto e telemonitoraggio. Come si posizionano gli infermieri in questo dibattito? Ma intanto, così, la popolazione infermieristica, 465.000 infermieri, infermieri pediatrici iscritti agli ordini, hanno un'età media che in questi ultimi anni si è un pochino alzata, grazie al, come dire, al contingentamento vario sulla spesa di personale che ha in qualche modo impedito l'ingresso di numeri importanti, è comunque un'età media che è più bassa rispetto ad altre professioni, attorno ai 49 anni. E questo, da un lato, facilita questo tipo di ragionamento rispetto alla digitalizzazione anche di molti sistemi sanitari. Le riflessioni che noi stiamo facendo sono di questo tipo. Intanto, sicuramente, non è più tempo di solisti. Nel nostro sistema sanitario, socio-sanitario, e faccio questa affermazione che, peraltro, ho condiviso in questi mesi in maniera anche importante con i presidenti delle altre federazioni, medici, psicologi, assistenti sociali, la federazione che io chiamo multi-albo, quella che raccoglie 19 professioni sanitarie, ci siamo confrontati parecchio e conveniamo tutti in maniera molto leale che non è più tempo di solisti nella nostra sanità. Le sfide che abbiamo davanti, che non è solo la sfida del PNRR, perché la sfida del PNRR significa aver messo nero su bianco un'evoluzione epidemiologica dei bisogni del nostro paese che era già, come dire, già nota. L'ha messa nero su bianco, così come ha messo nero su bianco, è anche la necessità di cambiare i paradigmi e di rinforzare quella famosa terza gamba della 833, che era l'assistenza territoriale, che ha sempre fatto fatica a decollare, e dove è decollata è decollata a macchia di leopardo. Quindi l'integrazione e l'interconnessione professionale sono elementi essenziali. In questa logica un'evoluzione digitale, delle piattaforme digitali deve tener conto di questa integrazione, di questa multiprofessionalità. Soprattutto abbiamo bisogno di piattaforme digitali che siano sicuramente interoperabili, perché poi il tema è sempre questo, che nel nostro sistema sanitario i sistemi digitali si sono in qualche modo stratificati anno per anno e decennio per decennio, e si sono praticamente sovrapposti in uno all'altro, spesso perseguendo la logica dei silos, anche nel sistema digitale, quindi la logica organizzativa è stata trasportata anche nella componente digitale, e difficilmente questi sistemi sono interoperabili. Credo, come dire, sia noto a tutti. Io, ad esempio, lavorando ai progetti di apertura delle case della comunità e dialogando con i medici di medicina generale, ad esempio, loro ogni mattina aprono 9-10 software diversi quando aprono l'ambulatorio, che ovviamente non sono interoperabili fra di loro. Ma tra questi 9-10 software non c'è nessun collegamento con, ad esempio, una componente socioassistenziale, ad esempio in Lombardia si chiama FASAS, fascicolo socioassistenziale, che è fascicolo, è l'FSE del territorio, cioè raccoglie tutta la componente che viene realizzata sulla persona rispetto ai servizi territoriali, quindi i consultori, le dipendenze, la neuropsichiatria, l'assistenza domiciliare, la non autosufficienza e quant'altro. Così come non c'è un collegamento con molte altre attività sanitarie, penso ad esempio alla salute mentale. Così come, ad esempio, il nostro fascicolo sanitario nazionale non raccoglie ancora tutte le prestazioni che vengono erogate nel privato creditato. Quindi, intanto, abbiamo bisogno non di ulteriori sistemi, ma abbiamo bisogno, come è stato ben presentato, di un ecosistema che metta tutti in relazione, prevedendo tutti i privilegi e tutte le sicurezze possibili e previste per norma anche rispetto alla tutela e alla sensibilità dei dati. Però è evidente che se noi non abbiamo questa interoperabilità, ogni singolo professionista vede il proprio pezzetto. Quindi quando arriva la persona in pronto soccorso, se io non ho accesso a un fascicolo territoriale, non so neanche se questa persona è inserita in alcuni percorsi già di cura di continuità assistenziale, che sia l'ADI o che sia il servizio domiciliare dell'ambito comunale e territoriale. Così come non vedo, quando sono sul servizio territoriale, alcune attività che questa persona ha nella sua storia clinica, sanitaria e sociosanitaria e che non compaiono però da nessuna parte. Quindi sicuramente questo è la prima condizione sine qua non. L'interoperabilità è la possibilità di poter, come dire, che l'equip multiprofessionale possa avere accesso in visione ad una serie di informazioni e possa lavorare direttamente sul sistema. L'altro elemento su cui stiamo riflettendo è necessario, ma è stato già anche citato, integrazione con gli ambiti territoriali e sociali. Non possiamo più pensare, cioè la casa della comunità e quello che diceva anche la relattrice prima, quello che dice il PNRR, la missione 6 component 1, la casa come primo luogo di cura. Se la casa è il primo luogo di cura, dobbiamo fare in modo che la persona resta in casa il più possibile, allora benvenga tutta la digitalizzazione, compreso, ad esempio, tutto lo sviluppo dei dati overhead, perché ormai abbiamo, come dire, degli abiti che si indossano o degli dispositivi che si indossano e che sono in grado di trasmettere una serie di informazioni. Sentivo nelle relazioni precedenti anche la possibilità, ad esempio, di fare in modo, penso ad esempio a tutto lo sviluppo della domotica per la non autosufficienza, quanto noi possiamo lavorare per lasciare a casa il paziente non autosufficiente, anche giovane, semplicemente anche con uno sviluppo della domotica. Sentivo un relatore che parlava della possibilità di collegare, ad esempio, il frigorifero a una centrale, quindi se non viene segnalata l'apertura del frigorifero siamo quasi certi che quella persona in casa da sola quel giorno non abbia mangiato, ma ci sono, ad esempio, tutti i sistemi per la somministrazione delle terapie, cioè dei sistemi di forme diverse che sono collegati a una centrale remota dove spesso ci sono degli infermieri di famiglia e di comunità. Penso al progetto Leonardo Nardino che è stato fatto nella Puglia anni e anni fa, ma piuttosto, penso ad esempio all'evoluzione del PUA, il punto unico d'accesso che riceve questo tipo di informazioni ed è collegato a tutta la rete prevista dal PNRR nel distretto, compresa la parte sociale e allora parte un alert e parte una visita domiciliare, un accesso domiciliare, che sia l'apertura del frigorifero che sia l'apertura del disco in cui sono inserite la terapia orale di quel giorno, di quell'ora per l'assistito. Quindi sicuramente un'integrazione che deve anche un po' superare, come dire, anche qua, un'organizzazione per silos tra la componente sanitaria e la componente sociale. Ho accennato il PUA e ci ritorno brevemente. Il PUA credo sia uno dei principali elementi di integrazione, anche rispetto al sistema digitale e all'evoluzione digitale, perché sia un punto unico d'accesso, è un punto unico fisico, dice la norma, riconoscibile. Ovviamente qua io credo non si debba fare l'errore di pensare a più PUA, quindi quello sanitario e quello sociale sarebbe veramente, come dire, la deviazione patologica dei nostri sistemi organizzativi, ma deve diventare un elemento di integrazione e di interconnessione. Peraltro, lo ricordo per inciso, che nel mese di agosto il governo ha mandato alla conferenza delle regioni la bossa d'intesa sul piano nazionale per la non autosufficienza, dove hanno previsto degli incrementi importanti anche per ogni regione sul personale dei PUA, con anche il finanziamento. Lo ricordo, ad esempio per il Lasse, visto che siamo nella regione Lasse, stiamo parlando a regime nel 2024 di 3 milioni e 320 mila, per la bellezza di 83 persone, prevalentemente assistenti sociali, ma anche altri operatori da metterne in PUA. Ecco, io credo che un lavoro, anche culturale, su che cos'è questo PUA dentro le case della comunità, dentro i distretti, dentro il PNRR, che faccia da connessione in tutta questa rete, possa e debba essere fatto. Chiudo con le ultime sollecitazioni che ha presentato la collega che mi ha preceduto. Sottoscrivo quanto ha detto sulla formazione. La formazione degli infermieri va totalmente ripensata, la federazione lo dice da molto tempo, la prova ne è questa poca attrattività che adesso ha la professione infermieristica, sicuramente bisogna dare uno sviluppo importante a regime sulle lauree magistrali che abbiano un orientamento verso la clinica, verso l'assistenza, per andare a completare quelle competenze specialistiche che occorrono per ambiti ampi, come ad esempio quello delle cure territoriali e nell'infermieristica di famiglie di comunità. Così come è fuori discussione che credo si debba un pochino ripensare molta della formazione delle professioni sanitarie perché noi rischiamo di formare professionisti sanitari di tutti i tipi, cioè non è un problema solo degli infermieri, per un mondo e per dei bisogni di salute e di assistenza che possiamo immaginare sì dagli sviluppi epidemiologici ma poi come si manifesteranno e quale sarà il modo per poterli prendere in carico anche con queste modalità remote e digitali ci abbiamo ancora messo un pochino poco la testa. Siamo ancora molto tradizionali rispetto alla formazione delle professioni sanitarie. Ecco, in definitiva credo e vado alla conclusione che due anni di esperienza di pandemia ci abbiano almeno messo nella condizione di dire dobbiamo cambiare paradigma e dobbiamo lavorare per cambiare paradigma. abbiamo delle norme che ci possono aiutare il PNRR ma anche questo un esempio documento che ho citato sulla motosufficienza ma anche tutti gli altri documenti gli ultimi documenti della conferenza Stato-Regione sulla sanità digitale e sullo sviluppo della telemedicina con questo con questo così richiamo che mi sento di fare con cui ho aperto con cui chiudo non è più tempo di solisti il nostro sistema socio-sanitario è così complesso e articolato che nessuno può nessuna famiglia professionale può pensare di affrontare questa sfida da solo così come dal punto di vista organizzativo nessuna azienda può pensare di affrontare questa sfida da solo quindi grazie per questi spunti e per questa interessante giornata grazie a tutti grazie a tutti